Si vuole bella, si giri nella mia, si vuole bella, si giri nella mia, si vuole bella. Francesca Curcio, vice sindaco di Belmonte Calabro, siamo qui nella sede comunale per un avvenimento importantissimo per questo comune. Il ritorno dopo 40 anni della tela, del quadro dell'Annunciazione. Salve, questo quadro, questa opera su tavola, non su tela, è un'opera del Cinquecento, è rientrata a Belmonte dopo 40 anni, è stato restaurato dalla sovrintendenza, era nella chiesa dell'Annunziata, una piccola frazione del comune di Belmonte Calabro, una delle prime, se non la prima frazione nata in questo comune. 40 anni fa la sovrintendenza ha preso quest'opera per ristrutturarla, finalmente dopo 40 anni siamo riusciti a riportarla qui, momentaneamente in questa piccola saletta, preparata per essere idonea a mantenere l'opera. L'artista è sconosciuto, ancora c'è chi lo attribuisce ad Antonello Damessino, insomma ci sono delle teorie contrastanti sulla paternità dell'opera. Un ringraziamento particolare per il ritorno deve essere fatto alla professoressa Bosco che insieme a noi dell'amministrazione comunale ha contribuito per garantire questo ritorno importante. c'è chi dice che è una delle più importanti opere della Calabria, quindi è importante che siamo orgogliosi che sia ritornata nel nostro comune.